Siamo molto protetti, le nostre protezioni derivano dal motocross. Abbiamo forse la cosa più importante, il casco integrale, che ci permette di non romperci la testa quando cadiamo. Poi abbiamo una mascherina, che anche se molti pensano che non sia importante, invece lo è, perché protegge da lesioni agli occhi. Poi abbiamo il collare di Hans, che serve per proteggere da fratture del collo in caso di caduta. Abbiamo una pettorina, che è composta da vari pezzi. Abbiamo i pezzi davanti per le costole, la spina della vertebrale. E poi abbiamo le spalle e i gomiti. Poi abbiamo delle ginocchiere, che possono essere o corte o lunghe. Quello va un po' a discapito della preferenza del rider. E poi abbiamo delle scarpe, che sono generalmente alte, per proteggere dai colpi sul tallone. Alessandro, spiegaci un po' com'è il percorso tipo del Downhill. Dov'è che si può praticare? In che zone? Le zone sono piuttosto varie. Possono essere da zone di sottobosco, zone prattive, piuttosto che pietraie. Quindi sono molto diverse. Più è completo, più è bello, più divertente. Le gare sono delimitate dalla partenza all'arrivo da fettucce. Il dislivello medio è intorno ai 500-600 metri. I tempi possono variare da 3 minuti scarsi, anche fino a 5-6 minuti. Dipende dal tracciato. Allora, Corrado, sappiamo che tu hai iniziato agli inizi degli anni 90. Adesso, come potresti spiegarci un po' l'evoluzione che ha avuto il Downhill dagli inizi fino ad oggi? Sì, agli inizi, diciamo, ai primi anni 90, si è iniziata la specialità Downhill con, diciamo, delle biciclette tipo quelle cross country. Poi da lì si sono evolute le biciclette fino ad arrivare a queste bici, queste mountain bike, e di conseguenza anche i percorsi dove ci si allena. Una volta qualsiasi sentierino pedonale, diciamo, sottobosco, che reca in montagna o che andava bene, adesso c'è la grossa fortuna, nell'ultimo decennio ci sono dei bike park a disposizione di tutti, diciamo, tipo pila, dagli anni, fine anni 90, così c'è la possibilità di allenarsi su un bike park dove ci sono diversi tipi di giri percorsi, di ogni genere, diverse difficoltà, e dove si possono trovare delle piste proprio adatte all'allenamento, fettucciate e protette, anche perché quando uno si allena già a un certo livello, trovare già delle piste protette, pronte a gara, fa comodo. E l'impianto di risalita, quindi per salire, non possiamo, è impensabile salire in queste biciclette, quindi, diciamo, va bene sfruttare l'impianto estivo e tutti i vari percorsi che ci sono. Corrado, spiegaci un po' come è composta questa bicicletta, anche magari che differenze ci sono con una bicicletta normale. Sì, allora, come vedete, è una bicicletta già un po' particolare, non so per chi magari non le ha mai viste, sono biciclette un po' appariscenti, innanzitutto sono molto più robuste, pesano già intorno dai 17 ai 19, anche 20 kg. Quindi, chiaramente, più si sta basso col peso, migliore è, più agile è, però chiaramente rischia anche di rompersi, diciamo, agli urti o alle solicitazioni che gli diamo. Allora, abbiamo nella parte anteriore una forcella, doppia piastra, più o meno di 200 mm di escursione, il telaio, materiale d'alluminio o materiale composto, in questo caso per la maggiore attualmente è alluminio, ma c'è parecchio composito anche, una sospensione posteriore con un sistema di leveraggio che permette di, diciamo, di ammortizzare sia, diciamo, scalini, dossi, sassi e anche terraggi dai salti. Freni a disco, abbiamo dei freni a disco, un giro da bici così, la puoi vedere bene, freno a disco idraulico, doppio pistoncino, 200 mm di disco e pompa, è interamente tutto un circuito idraulico simile a quello delle moto, chiaramente è tutto minuto per contenere i pesi e si frena tranquillamente con un dito. Non ho detto, nella forcella abbiamo tutte le varie regolazioni, possono essere idrauliche in stile moto, quindi precarico molla, camere d'aria, o, diciamo, varie velocità di ritorno e compressione sull'olio. Lo stesso per l'amusegiatore posteriore e poi, un'altra particolarità, abbiamo un guida catena, un monorapporto davanti, in maniera che la catena non possa sbattere e uscire. Abbiamo una slitta che ce la mantiene dentro la corona e una rotellina di tenuta, in maniera che la catena, in mezzo a pietre e salti, diciamo, non sbatta e non esca fuori. E il cambio, invece, è tradizionale, come su tutte le altre mountain bike, otto erano i vecchi rapporti, nove, dieci rapporti. Chiaramente la catena è molto fine, però, diciamo, tiene, diciamo, comunque, c'è le sollicitazioni o meno. E usiamo tutti i vari rapporti, le cassette, diciamo, rispetto al cross country è un po' più compatta, abbiamo 11-28, in maniera che non abbiamo troppi denti fra una cambiata e l'altra. Si usa parecchio il rapporto posteriore. Chiaramente i pneumatici sono di sezione maggiorata, molto pesanti, robusti, si lavora con delle pressioni intorno a 1-8-2 atmosfere. Pedali possono essere a gabbia larga, con la tacchettina, tipo mountain bike tradizionale, cioè da cross country, o il flat pedal con una scarpa molto morbida, gommosa e le punte che grippano bene sulla scarpa e sul piede, quindi. Altre particolarità, niente, un assetto sicuramente più eretto, la posizione, se io provo a salire, vedete che non sono curvo avanti, sono poco aerodinamico, ma non serve più di tanto. Mantenendo questa posizione qua, il mio corpo, il mio peso, gravita più sulla ruota posteriore, visto che siamo sempre in pendenza abbastanza forti, e di conseguenza abbiamo un angolo molto aperto a livello geometrico della forcella, l'angolo sella anche, e il peso chiaramente lo devo retrare parecchio, in maniera tale da superare questi pendini un po' ripidi, evitando così il ribaltamento. Giuliano, un'ultima domanda per te. Sappiamo che la scorsa settimana è iniziata la tua stagione agonistica. Vorresti, non so, presentarci il tuo calendario, le prospettive, le gare che andrai a fare quest'anno? Sì, l'altra settimana abbiamo iniziato con una gara di campionato regionale piemontese. Adesso sto puntando, diciamo, a fare tutto il campionato italiano, cercando di entrare sempre nei 30, ma mirando di più penso ai 20 assoluti. Da lì penso di fare ancora le altre garette di campionato regionale, e poi punto all'IxS Cup di Coppa Europa a Pila. Corrado, ancora due domande. La prima, potresti dirci qual è stato il momento più bello e quello più brutto della tua carriera agonistica? Sicuramente quello più bello è la vittoria in Coppa del Mondo, sia come risultato che un sogno che forse neanche me lo aspettavo. La vittoria è cresciuta durante tutta la stagione, assieme alla squadra, a tutti coloro che mi hanno seguito, e man mano andano avanti la stagione finché ho preso la tabella numero uno e sono riuscito a portarla fino alla finale di Coppa del Mondo. Quindi quello proprio non me l'aspettavo, non pensavo di riuscire a ottenere un risultato di così alto livello. Cose brutte, forse, come diceva Julien prima, sono gli incidenti. Purtroppo quando si garezza a un certo livello non ci si può permettere di sbagliare e di incorrere in infortuni perché poi ti perdi magari una gara, due gare o metà stagione. Quindi un po' di imprevisti ci sono stati, purtroppo qualche caduta ci aspetta sempre dietro l'angolo, dietro la pianta, dietro il sasso e così qualche incidente c'è stato. Però l'importante è viverlo bene, anzi quando succedono questi sbagli, questi infortuni, anche lì è una preparazione mentale perché bisogna capire fin dove ci si può permettere di arrivare e saper tirare i freni al momento opportuno e rischiare fino a quello che ci si può. A vedere magari delle immagini qualcuno dice ma sono pazzi questi? Chiaro, per arrivare a quel livello ci si allena in maniera tale da sapere o controllare quello che si può fino nel limite del possibile. Ok, per chiudere una domanda un po' più da allenatore. Cosa consiglieresti a chi vorrebbe iniziare a praticare questa disciplina? Allora, innanzitutto partire dall'inizio con una buona preparazione, avvicinarsi, ci sono tante scuole oggigiorno, se c'è un ragazzino il consiglio di fare un po' di cross country all'inizio, dell'ottimo BMX che allena tantissimo. Il BMX ricordo che si può praticare dai 6-7 anni in poi. per i giovani si inizia a 13 anni con la categoria di esordienti e a quel punto bisogna appoggiarsi magari a qualche squadra, a qualche allenatore, a qualcuno che ti intromette perché il ragazzino o anche comunque il 18enne o l'adulto un po' più datato come me se si avvicina a uno sport senza avere esperienze subito non sa i rischi che corre quindi gradualmente e passo per passo poi si arriva fino a alti livelli. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Amici, dopo queste immagini emozionanti siamo di nuovo qui in studio al termine di questa puntata speciale che abbiamo dedicato all'adrenalina. Tre sport particolari, meravigliosi, assolutamente emozionanti, il paragadudismo, la scuola di circo e poi infine il downhill, le discese in bicicletta in contesti naturali, in particolare come abbiamo visto nel bosco. Puntata particolare anche perché tutte le immagini che avete visto sono state realizzate dalla nostra troupe, in particolare da me e da Fabrizio Zago, insieme agli studenti del corso di montaggio video promosso dal collegio universitario Renato Enaudi di Torino, un corso che poi è accreditato presso il Politecnico e presso l'Università, ma che ormai da sei anni si svolge per iniziativa di questo collegio universitario e che ha consentito in questi anni a tanti ragazzi di imparare dal vivo quest'arte della ripresa televisiva e del montaggio video. Quest'anno abbiamo deciso di chiedere qualcosa di più ai ragazzi che sono anche nostri studenti e io e Fabrizio Zago li abbiamo accompagnati in giro per il Piemonte a riprendere le immagini degli sport più belli ed emozionanti di cui loro sono appassionati o praticanti. In questa prima puntata abbiamo avuto occasione di vedere appunto le riprese dedicate all'adrenalina, quindi all'emozione pura. La settimana prossima andremo con altri tre gruppi di studenti a scoprire delle arti marziali particolari. Vedremo il judo agonistico, vedremo poi il Viet Vo Dao e vedremo infine il Taekwondo. Per questo motivo, proprio per continuare a godere di queste immagini spettacolari e anche delle interviste realizzate dai ragazzi, quindi degli approfondimenti che siamo riusciti a fare, vi do appuntamento la settimana prossima con un'altra puntata di Altro Campo. Grazie a tutti.